Dopo essere stato qui a Palazzo Lascaris nella sala stampa dove c'è stato davvero l'assalto delle televisioni, il presidente neoletto della regione onorevole Sergio Chiamparino è andato sul palco allestito in piazza Madame Cristina nel centro di Torino e qui ha rilasciato delle altre dichiarazioni che l'ANSA ha ripreso. Secondo Chiamparino il risultato delle elezioni permetterà al Piemonte di avere una maggioranza solida e autosufficiente, libera da accordi e da alchimie politiche. Per fare la giunta, ha proseguito Chiamparino, bisogna aspettare di conoscere gli eletti perché avrò la possibilità di fare solo tre assessori esterni e questa è una novità prevista dello statuto per la decima legislatura. Adesso, ha detto ancora Chiamparino, vi chiedo solo una cosa, lasciatemi andare a casa a mangiare una pizza con la mia famiglia visto che è venuto qui da Bruxelles mio figlio con i nipotini. Da domani ci metteremo al lavoro per cercare di far ripartire insieme la nostra regione.